Sì, direi che fare arte in tempi di coronavirus è decisamente utile. Arte è vaccino, arte è nutrimento e antitodo. L'uomo usa l'arte per governare il mistero, per costruire risposte e per lasciare una traccia. Quindi in sostanza per elaborare ciò che gli accade, trasformarlo in impressione profonda e magari comunicarlo. Come fare arte ai tempi del coronavirus? Come sempre, guardandosi dentro con sincerità e tirando fuori, con altrettanta sincerità. Sapendo che noi pensiamo immagini, non pensiamo parole. E quindi alle immagini affidiamo il potere evocativo straordinario della bellezza. Della bellezza che salva, della sofferenza che in qualche modo è parte integrante della bellezza. Non esiste gioia senza dolore, questo si sa. E con che cosa? Con quello che capita. Non è necessario dipingere o scolpire. Bisogna sapere vedere. Sapere vedere forme, colori, materie, oggetti semplici. Ma soprattutto rappresentarli con la forza del pensiero e delle emozioni. E oggi, grazie agli strumenti che la tecnologia ci offre, in qualche modo tutti possiamo riappropriarci di questo bisogno di fare arte. Perché mai come in un momento come questo tutti abbiamo bisogno di fare memoria, di comprendere, di governare il mistero e tutto sommato anche di lasciare una traccia. Grazie a tutti.